Salve gente e bentornati da Mr.Tap qui sul canale Mr.Tap con un altro video sugli anime. Ho visto che l'ultimo video sta andando forte e il primo sugli anime, quello in cui provo a indovinare le sigle, sta avendo il botto. Quindi mi sono detto di sfruttarlo il più possibile, questo trend molto miracoloso, e di farne un altro in cui questa volta provo a indovinarne 40 in un minuto. Vedetemi i vostri brutteggi sotto, io apro un counter da qualche parte. E... dovremmo cominciare, però non posso cominciare. Perfetto, come sempre il link in descrizione e non vi vigiamo. Questa non la so, sono sincero, non l'ho mai sentita. Naruto? Vabbò, ma c'ha 50 mila di sigle, non posso indovinarne. Un altro buco nell'acqua? Mi sta ruggire, non lo conosco niente questa. Mai sentito neanche. Grave. Grave. Cazzo è? Ma direi, questo l'ho visto, sto anime, ma non mi ricordo, veramente, non mi ricordo. Non mi ricordo come si chiama. Forse è la seconda sigla. Non lo so, 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 non lo so. Forse è qualche... sì, qualche filler. Non ce l'ho proprio presente. Strano. Non ce l'ho pare. Questa è una cosa abbastanza per gli stream che io non ho visto. Aspettate. Capo e bibo. Che non ho ancora visto. Accidenti. 3, 2, 1, let's jam. Cazzo. Rai Zero. Rai Zero. Bella sta sigla. Bella sta sigla. Bella sta sigla. No, 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 ragami. Sai che si chiama non ragami? Ha rag... Non ragami ha ragato qualcosa di sigla. Ecco. Bella sta sigla, ancora una volta. Sta mettendo me in pezzone sto... Kitsu. Suo video in descrizione, se non ho già detto. Mai sentita sta canzone. Vabbò. Gente, siamo in Italia. Un attimo. Siamo in Italia. Una frecaccia di queste sigle. Non sono arrivate. Stiamo ancora ascoltando la prima sigla di Naruto. E ci sono tantissime sigle bellissime che qui non sono arrivate. Quindi se mi sbaglierò su One Piece, sapete perché. O se qualche altra sigla di Naruto, è raro che io la conosca. Non lo conosco. No! Va per me. Forse ho già sentito... La sigla, cantata dalla stessa tizia, ma non questa sigla, un'altra. Però non so che anime sia. Klanad. Klanad, non sono capito perché l'ho ancora visto. Forse l'ho visto. Non mi ricordo. Forse l'ho già sentita, ma non ho visto solo. Tokiyo Go. Che poi ovviamente... Ovviamente... A me questo anime... So come lo direte, ma non l'ho mai visto. Non lo vedi, no. Che non mi ricordo neanche... Non mi ricordavo neanche il video, ma... Capivo che anime si trattava. Allora... Allora... L'ho visto. Mi ricordo che anime è. Ma non mi ricordo il nome. Psycho Pass. Me l'ho detto. Ah... Fairy Tail, che non ho ancora visto. Perchè puttana nooo! 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 Queste Toradora... Non è possibile che mi credi su questo! Inoltre viva Rai4 che ha portato questo... Questo pezzettino... In Italia. Meno male. Poi non lo parlo più. Non capito perché. Non ho mai sentito. Non ho mai sentito. Ah! Un acerlino un nemico che non credo che voglia di dire. Cosa cazzuta? Molto cazzuta, ma non so... Ti cani mai scasca. Poi è una singola... Bleach! Vabbè! Io Bleach non lo vedo. Non mi vedo troppo essere il mainstream. Perchè sono quelle 12 puntate. E neanche questo lo conosco. Non lo conosco. Charlotte. Oddio, questo mi sa di averlo visto ma... No, mi sa di... Aver visto la Locantina di Charlotte, ma non l'ho mai visto mai. Forse aveva sulla mia lista. Non lo conosco. Anche se mi sembra conosciuto. Forse l'ho già sentito, ma... St'anime... Ah! Hunter x Hunter che non l'ho visto. Sono un sacco che non l'ho visto. Specialmente mainstream. No. Ah! Questo l'ho cominciato, ma non l'ho finito poi. Bella stasera. Sto pezzetto specialmente. estremamente. Abbiamo raggiunto. Sono un sacco di anima. Mi dispiace, chiedubilmente scusa al ragazzo a cui ho rovinato, ho spoilerato all'Ather. Spero che tu lo veda questo video e che sappia che mi dispiace veramente. E non lo spoilerò ancora. Non lo conosco, non lo conosco, so che anime sia questo. Chitanna, un altro pezzetto storico che non l'ho vista. Non l'ho vista. Non l'ho vista. Bacomar. Questi capelli mi ricordano qualcosa. Chiavera, l'inkite in Assassin's Creed Assassin. Perché non l'ha visto, gli consiglio di vederlo e di sopravvivere la prima stagione, perché la seconda è una bocca. No, no! Ho messo in pausa prima. Comunque sì, era a Razet, l'ho visto. L'ho visto, bellissimo. L'ho trovato su un nuovo veicolo. Bello. Bello. E tuoi brividi dietro. Eeeeeh, Chi... Chi Seiju? Si chiama Chi Seiju lo spenneserato? Chi Seiju? Sì! Ballo! E guarda che lacrime come scendono quando senti la sigla di Anohana! Madonna! Ballo! L'altro pezzetto che è arrivato in Italia, meno male! L'anime sulla cucina! L'anime sulla cucina! L'anime sulla cucina! L'anime sulla cucina! Non mi ricordo il nome! C'è un nome veramente abbastanza tosto! Però l'ho visto! E lo sto continuando a vedere questo autunno! Esce la terza stagione, se non sbaglio la quarta! E non lo vedo ora! Eh, non lo vedo! Questo non è sia un diventale! Non è sia un diventale! Aaaaaa! Eh, questo mi ispira! Ah, allora Questa canzone ce l'ho su Osu Perché facevo una partita a multiplayer Ce l'avevo Ed allora sta sulla mia lista Ma non mi interessa neanche più Fate Stay Night Ma questa comunque Non so se vale No, non vale più No Ah, la docca magica L'avevo sentito perché ce l'ho su Osu Ma non l'ho mai vista E non la voglio vedere Neanche questa Questa è un altro buco nell'occhio Basket Ciao anime sportivi Ciao Non lo conosco Neanche questa non lo conosco È un anime un po' strano Non fa per me Ah High School of the Dead High School of the Dead Che sta ancora Non si sa ancora Che cazzo di fine ha fatto la trama Non si sa Perché Mamma mia L'ultimo Non lo conosco Non lo conosco Non lo conosco Datemi qualche consiglio Su qualche video Incentrato sugli anime Che potrei fare Non lo so Non provano a ridere Una seconda parte Di Prova non ballare o cantare Anche se non tanto Il Prova non ballare o cantare Non tanto mi piace Se avete qualche idea Bazza Ditemela Ci vediamo Un prossimo video Quando avrò voglia di farlo E Ciao 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 Ciao